Io capisco naturalmente la voglia di ripartire, tutti quanti abbiamo voglia di ripartire, soprattutto coloro che hanno attività imprenditoriali, in particolare i commercianti, però credo che sia necessario farlo con grande buonsenso. La corsa alla riapertura della regione toscana, insomma l'anticipazione della zona arancione di PCM permettendo ha trovato un fronte contrario, se non politicamente e sicuramente geograficamente, perché qua sulla costa, in Versile in particolare, terra di seconde case, quei legacci più larghi, vogliono dire più spostamenti, vogliono dire più persone in arrivo, vogliono dire insomma assembramenti che data la situazione pandemica, insomma dati i numeri dei contagi, ancora non ci possiamo permettere. Apriamo la porta ai cittadini ogni giorno, i cittadini chiaramente manifestano con noi le varie problematiche, anche le varie esigenze e quindi noi chiediamo il rispetto delle prescrizioni a volte anche con fermezza, addirittura a volte anche con ordinanze specifiche su alcuni luoghi dove si manifestano assembramenti e poi arriva un provvedimento che sinceramente spiazza e che crea un minimo di imbarazzo. Io però mi auguro naturalmente che ci sia la possibilità, la voglia di condividere d'ora in poi le possibili soluzioni per, ripeto, una ripartenza più serena, soprattutto in vista delle feste e in vista del fatto che molti commercianti, direi la stragrande maggioranza, ha sofferto enormemente in questi mesi e per dare loro la possibilità di lavorare in tranquillità e per dare ai cittadini finalmente la possibilità di uscire di casa in sicurezza.